La gente, i fedeli, la comunità, tutti aspettano con gioia il momento di incontrare Papa Francesco in Armenia. Il pontefice è partito questa mattina da Roma e arriverà fra un'ora circa nella capitale armena. Si tratta del quattordicesimo viaggio apostolico del pontificato, una visita carica di significati, prima tappa dell'itinerario nel Caucaso, che verrà completato a settembre con la Giorgia e la Zerbaijan. Papa Francesco va in Armenia, 15 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II. Sarà un nuovo abbraccio con il paese che per primo, nel 301 d.C., al culmine dell'opera evangelizzatrice di San Gregorio l'Illuminatore, proclamò il cristianesimo come propria religione. Ma sarà soprattutto un dialogo profondo, quello del Papa, con un paese ferito alla ricerca della pace. Dopo la lunga stagione in cui fu inglobata nell'Unione Sovietica, il russo è la seconda lingua più parlata, l'Armenia deve risolvere ancora oggi il conflitto territoriale con la Zerbaijan. Fra le questioni, la contesa sul Nagorno Karabash, enclave a maggioranza armena in territorio a zero. Ma soprattutto la ferita più profonda risale al 1915, quando un milione e mezzo di armeni, soprattutto cristiani, vennero orrendamente trucidati per mano dell'esercito ottomano, una vicenda che divide Armenia e Turchia. Il pontifice visiterà il memoriale dei zii Nerka Verde, che ricorda proprio l'eccidio armeno, un orfanotrofio di Gumiri, e poi terrà un incontro ecumenico e una preghiera per la pace. Infine la visita al monastero di Corvirappo, al confine con la Turchia, da dove il pontifice libererà due colombe, simbolo di pace, verso il monte Ararat, dove, secondo la tradizione biblica, si arenò l'arca di Noè alla fine del diluvio universale.